Come saprete da domani la Liguria torna ad essere definita zona gialla e questo comporta una riduzione di limitazioni e un miglioramento delle condizioni sociali e la dimostrazione che da questa situazione se si lavora con responsabilità e con divisione si può uscire. Lo ripetiamo da tempo in questo nostro costante scambio di informazioni fra sindaco e cittadini, un confronto che è cominciato all'inizio della pandemia e nel tempo non si è mai interrotto nonostante i forti condizionamenti di alcuni periodi, in un contesto generale anche recentemente molto pesante e impegnativo. L'emergenza è iniziata un anno fa con gli eventi meteorologici di novembre 2019, continuata e non conclusa con la problematica del Covid-19 e sta proseguendo con la notizia formale proprio di questi giorni che Terreno Power ha avviato la procedura per la realizzazione del nuovo impianto a metano nella centrale di Vado Ligure Quigliano. Emergenze e tematiche importanti dagli aspetti conflittuali e a rischio di diventare devastanti e che devono essere affrontate con urgenza e responsabilità. Tematiche di valore assoluto che si rappongono a quelle ordinarie e straordinarie della gestione pubblica di una comunità che sta passando da un'emergenza all'altra. A un anno di distanza dalla tempesta meteorologica del novembre 2019 con ripercussioni sulla viabilità e sui collegamenti, lavorando in piena pandemia e con grandi difficoltà siamo riusciti ad ottenere per il ripristino delle strade e delle zone danneggiate un contributo pari complessivi a 3.165.551 euro. E ad oggi la situazione degli interventi attivati è la seguente. Ultimati i lavori lungo via Teci, località Brani, località Scarone, via Pellegrini, via Cappanne e via Faia per 1.121.900 euro. In fase di ultimazione i lavori lungo via Teci, via Molini, Frane, Drabivio, Quattrostrade, Vacca Morta, via Faia per un valore di 1.095.251 euro. In corso di esecuzione i lavori lungo via Puè, via Vacca Morta, via Verne, via Termi, via Teci, via Checchezza, via Via Arzo per un valore di 642.000 euro. Da iniziare successivamente finanziati a valere sull'annualità del 2021 sono i lavori lungo via Parodi con un valore di 53.000 euro. Un lavoro veloce, funzionale e tempestivo grazie alla sinergia di tutta la macchina comunale, degli uffici amministrativi che hanno istruito le pratiche all'ufficio tecnico, che ha gestito diretto in modo strategico e completo la lunga e articolata serie di interventi. Complimenti a tutti per la partecipazione, il senso di appartenenza, di risposta a questa emergenza. Il Covid è un problema apparentemente dormiente, ma terribile. Il sistema delle zone, dei criteri oggettivi, sta funzionando. Ce lo dicono i dati nazionali che ci ha fornito il Ministro, ma bisogna tenere duro. Le variazioni di indicazioni di restrizioni non vuol dire liberalizzazione. Partiamo dal dato che questo significa una notizia importante, soprattutto per le categorie economiche più penalizzate. I bar, i ristoranti potranno riaprire per pranzo. La guardia però resta altissima, non sperchiamo questa occasione. Rispettiamo con rigore le regole per migliorare ulteriormente la nostra situazione e avviarci verso Natale e il resto dell'anno con una situazione sociale ed economica migliore e più consapevole. Purtroppo ci sono ancora dati oggettivi che ci fanno riflettere e ci incitano a ricordare che la pandemia non è ancora sconfitta. Dagli ultimi dati trasmessi dal competente servizio dell'ASE nella giornata di ieri, la situazione che interessa i cittadini di Quiliano è la seguente. Casi confermati 21, casi sospetti 11, casi da contatto 29. Ricordate sì quanto già evidenziato in precedenza per segnalare problematiche e esigenze collegate con i servizi sociali, si prega di telefonare allo 019-2544 negli orari di servizio. Si possono altresì trovare informazioni utili per i diversi servizi, tra cui l'orario sportello URP e servizio relazioni con il pubblico, appuntamenti telematici con videoconferenza, orari di apertura al pubblico degli sportelli comunali, indicazioni dei numeri telefonici per i diversi contatti degli uffici comunali e indirizzi e mail. In merito al progetto di realizzazione di una nuova unità CIGO combinato della Centrale Termoletica di Vado Ligore e Quiliano, sono prevenute comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi attivati, respettivamente da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente. Gli elaborati progettuali sono scaricabili sui siti dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico. La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS, VIA e AIA all'indirizzo www.wa.minaambiente.it del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Entro il termine di 60 giorni della data di pubblicazione dell'avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale. Può presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzando il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Da parte nostra, come già per l'emergenza meteorologica, come già per quella sanitaria, affronteremo questa nuova emergenza con la massima attenzione e responsabilità. L'interesse dei cittadini di Quiliano, il problema del lavoro, quella della sicurezza ambientale e della salute sono la nostra attenzione. Valuteremo con scrupolo e partecipazione, non dimenticando nessuna delle perplessità dei problemi che accompagnano un'operazione come questa, tanto improvvisa quanto articolata e studiata, prima di essere resa pubblica e disponibile nelle sue varie sfaccettature. Per noi l'interesse di Quiliano e dei Quilianesi resta sovrano e imprescindibile e su questo vigileremo studiando, approfondendo, valutando e decidendo corralmente e nel modo più opportuno. Non è un momento facile, ricco di incogniti e come abbiamo affrontato l'inverno e una primavera devastanti, faremo quadrato anche in questo frangente. Buon fine settimana a tutti.